Konnichiwa minasan, benvenuti qui nel mio canale, sono come sempre Giappogamer e come potete ben vedere siamo qui di fronte a Schoolgirls Second Encore per Playstation 4 Allora questo Schoolgirls è sviluppato da quei lazioni, dal Lab Zero e pubblicato dall'Autom Gamers È praticamente un picchiaduro 2D però con una grafica alquanto quasi 3D oserei dire Ed è un picchiaduro veramente molto molto frenetico, poi avremo un modo insomma di giocarci in lungo e in largo Perché ovviamente dovremo portare, porterò avanti la modalità arcade, scusate la modalità storia per quanto riguarda i 14 personaggi Ebbene, allora andiamo un attimo a vedere di che si tratta Allora abbiamo giocatore singolo, extra, classifiche, guidats e opzioni, allenamento, scontro E va bene, ok, siamo arrivati a quel giocatore singolo Allora, come detto, ovviamente è un picchiaduro 2D, quasi 3D, diciamo sta a un incrocio tra il 2D e il 3D E ha un rooster di 14 personaggi prettamente femminile E poi, ovviamente i combattimenti sono validi sia per giocatori esperti Esistono dei tornei anche per quanto riguarda questo picchiaduro Oppure va bene anche per giocatori occasionali come me, insomma Io non mi reputo un giocatore esperto Almeno di questo picchiaduro, insomma, perché è la prima volta che ci gioco Comunque va bene anche per giocatori occasionali come sono io Comunque, l'animazione, vi ripeto, vi sottolineo, veramente molto molto bello Perché? Perché in realtà poi tutti i frame sono stati disegnati a mano E ad una altissima risoluzione E vi assicuro che graficamente è veramente un qualcosa di eccezionale È veramente un piccolo gioiellino Allora, la trama di questo gioco, di questo picchiaduro che si rispetti Voserebbe dire prettamente giapponese Di cosa si tratta? Apparente nel mondo esiste un misterioso manufatto demoniaco Dal nome Skull Heart Apparente esso, se viene trovato da una persona di sesso femminile Si trasformerà in un teschio nero parlante Capace di esodire un desiderio qualsiasi Se però il desiderio sarà impuro o mosso a pensieri egoisti o peccaminosi Quando esso verrà esaudito, la donna verrà trasformata in una Skull Girl Un demone dall'aspetto adorabile Capace di immensi poteri E spinta da una furia spaventosa Bene Detto questo, iniziamo allora a videogiocarci Utilizzando anche uno dei 14 personaggi Allora, le modalità giocatore singolo sono Quello che potete vedere qui alla mia sinistra Cioè modalità storia, quello che farò io per ogni personaggio Modalità arcade CPU partita veloce Vabbè, poi la difficoltà comunque normale Perché poi ci sta anche difficile, ridicolo, incubo, sonnambulo Comunque mettiamo normale E modalità di sopravvivenza Che comunque mette a prova l'abilità Contro una serie infinita di avversari e CPU Bene Ok, allora Modalità storia Allora, andiamoci a scegliere il primo personaggio E il personaggio in questione Si chiama Filia Eccola qua Allora, prende la nostra cara Filia Un tempo era una brava studentessa Ma un giorno si svegliò senza ricordi E con una seconda bocca sulla parte posteriore della testa Ospitava dentro di sé un parassita di nome Samson Un groviglio ribelle di capelli demoniaci Con una forza incredibile Senza ricordi e senza nessuno a cui chiedere aiuto Filia non può far altro che fidarsi di questo essere misterioso Per provare a rimettere insieme i pezzi del suo passato E sopravviere così allo scontro inevitabile con la Skull Girl Bene Modalità storia Per cui Dobbiamo poi cosa si tratta Beh, eh, eh Beh, eh, beh Beh, eh, beh Ecco Samson che interviene Guardate che forza demoniaca Grandissimo Eh, giustamente, giustamente Giustamente I can feel it Eh, beh, giustamente Allora, caricamento, vediamo un po' Ok, primo combattimento Contro parasolo Facci tua No, non ci provare, dai No, vieni qua Vieni qua, fatti prendere questi capelli demoniaci Aio, aio Oh, vieni qua Così Una bella presa ci piace sempre Mamma mia, pure in trapano Ah, vieni qua, fatti prendere Così Così Ale, bene così 1-0 per noi Ah Solo così? Ah, bene, bene, ok Siamo avanti Secondo scontro Aio Contro Sarebella Sarebella Tacci tua Sarebella Vieni qua Vieni qua Dai Su Oh Così Sarebella Fatti prendere Bene Aio, no, 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 no No, 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 no Aio, aio, no, no, no Vai così, così Sì, così scivolata, grande figlia, grandissima Benissimo così, benissimo così Ecco qua, chi si incazza con noi? E' su, dai Allora, eccoci qua contro Pinwheel Oddio santo Vieni qua Aio, aio, aio No, 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 no No, dai, la super mossa no Aio No, dai, su, cazzarò Ecco, sta incazzata Vai, fatti prendere così Vai, fatti prendere ancora così E non svolazzare a cazzo di cane subito E scendi giù, ti sei, ti sei buggata E fatti prendere, dai Vai così, fatti prendere Ale, calcetto in bocca E anche Pinwheel se ne va Pinwheel Non come si chiama Bene, bene Eh, appunto, andiamo, andiamo Eh, certo, sempre insane Certo, certo E chi sei? E chi sei? Eh, certo Ho bisogno di rispettare Siamo seguendo Ok, ecco qua Contro Mrs. Fortune Bene, bene Aio, aio Vai, vieni qua Una bella strigliata Mi fa che Questa fila Quando vale a farrucchiere Chissà quanti soldi Spende, calo Tutti i capelli che si ritrova Oddio, questa Si è scapocciata Oddio Aio Che ci giochi a bowling Ma vieni qua Fatti dare una strittina In amicizia Vai Vai, fatti prendere così Ale Perfetta Bene, bene Anche Miss Fortune È andata Oddio Oddio Dove stiamo? Mmm Valentine Oddio 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 Pure 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 La sua La sua Si è spiritata Oddio Oddio Allora, eccoci qua Contro Double Madonna Santissima Who will Our Starby Tonight Let's rock Let's rock Vai così Teco sta pistola Maledetta Ma quante cazzo Di essere siete Madonna Quanto sei brutto Oddio M'ha mangiato Oddio Oddio E no E no Vieni qua Fai dare una bella stretta Aio 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 No 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 Ok così Vieni qua Valentine Tocca pure te Tocca pure te Tocca pure te Tocca tua Brutta infermiera Maledetta Maledetta Maledica Vieni qua Vieni qua Fatti prendere Aio Sìì Sì Sì Yatta Yatta Grande Grande V contro uno E non si fa così Eh Certo Dobbiamo provare Samson Eh certo Giustamente Vediamo un po' che accade Aiaiaiaiai E chi caspita è? Porca miseria Cala, già c'ha l'occhio demoniaco Eh, Marie, eh, certo Il sangue dei Medici scorre nelle tue vene Aiaiaiaiai Contro Marie Bene, caricamento Eccoci contro Marie Vieni qua, dai Vediamo un po' Occhio, occhio Bene, così Si è fatto esplodere Cavolo, la super mossa è niente No, dai No, dai Mamma mia Eccola, eccola Vieni qua, su Sii Iatta Iatta Grandissima Grandissima Battuta Marie Una vita normale Abbiamo vinto pure un trofeo Bene così Benissimo, così Eh, cosa diseriamo Giustamente Giustamente Bene, bene Bene, ottimo così Grazie schoolgirl Grazie mille Ecco la nostra figlia A scuola Tipica scuola giapponese Ovviamente Oddio, devo notare Quella a destra Con le corna Da diavolessa Ecco la nostra figlia My name is Painwheel I just moved here from the labs And I like sewing And puppies And walks on the beach Oddio Infatti c'è un po' di C'è un po' di cose Ma comunque Vabbè Oddio Oddio Che accade Oddio Che c'ha Ti senti bene? Tutto a posto? Eh, vedo che stai sudando Ebbene Eccoci qua Da Giappogamer È tutto Sayonara E al prossimo video